In data 27 marzo, presso la Corte Costituzionale si è tenuta l'udienza di discussione di ben 10 ordinanze di rimissione costituzionale provenienti da tre tribunali italiani, Trento, Roma e la mezzia terme. Riguardante la famosa questione del precariato e quindi profili di illegittimità di norme italiane nei confronti di articoli della nostra Costituzione, quindi è stato chiesto ai giudici della consulta se, con particolare riferimento alla legge 124.99 e una legge della provincia di Trento se queste norme fossero conformi ai principi costituzionali. In buona sostanza sono le norme citate, norme che riguardano l'attribuzione di supplenze annuali fino al 31 agosto su posti vacanti. In quella data quindi si è discusso della questione relativa al profilo di legittimità di queste norme con riferimento non solo all'illegittimità costituzionale delle stesse, ma con riferimento anche al mancato ricepimento della direttiva 99-70 che come sappiamo tutelerebbe i contratti a termine anche all'interno dello Stato italiano. in quella sede in buona sostanza sono state rappresentate alcune questioni allo Stato fondamentali come appunto la questione della precarizzazione dei docenti e non solo, perché le ordinanze di dimissione guardavano anche le categorie del personale ATA e dei docenti di conservatorio, quindi potremmo dire tutta la platea del personale della scuola e allo stesso tempo rappresentavano alcuni fatti che nel frattempo sono accaduti importanti. Il primo la sentenza della Corte di Cassazione la 10.127 del 20 giugno 2012 che di fatto nega sia la riqualificazione di contratti a termine sia il risarcimento del danno. In buona sostanza secondo l'estensore dottor Vidiri in Italia vi sarebbero norme di tutela equivalenti per cui la precarizzazione del personale della scuola è legittima a tutti gli effetti. L'altra questione importante che nel frattempo è stata rappresentata il giudice della Corte Costituzionale sono le ordinanze di dimissione comunitaria che questa volta arrivano al Tribunale di Napoli, estensore dottor Coppola, le quali per la prima volta rimettono alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione del precariato italiano con riferimento specifico alla scuola. Si ricorda che l'ordinanza di dimissione del dottor Coppola è un'ordinanza che pone ben sei questioni pregiudiziali che in buona sostanza chiedono se l'Italia rispetti la direttiva europea nel leale rapporto tra stati. Si ricorda altresì che questa federazione si è costituita in questo giudizio iscritto al ruolo generale 62-2013 che verrà discusso con buona probabilità nel corso di quest'anno 2013. A questo si aggiunge che la Corte Costituzionale allo Stato deve tenere anche presente, fra l'altro ed è stato detto, che vi sono delle procedure di infrazioni attualmente attivate nei confronti dello Stato italiano sempre per mancato recepimento della direttiva. Quindi di fronte a questo quadro gli avvocati del foro, compreso l'avvocato della provincia di Trento, che in un primo momento avevano deciso di chiedere la sospensione del giudizio in attesa che la Corte giustizia si esprimesse, hanno convenuto nel chiedere alla Corte Costituzionale che questa potesse a sua volta rimettere la questione di pregiudiziale comunitaria davanti la Corte giustizia europea. Caso nuovo, perché se si pensa che l'unico caso finora verificato si ha riguardato un'unica causa, quella traghetti del Mediterraneo contro la regione Sardegna, manco a farla apposta sollevata dal Presidente attuale della Corte Costituzionale, Dottor Gallo, il quale si è ricordato che è stato il primo a rimettere una pregiudiziale comunitaria davanti la Corte giustizia, pur ammattendo che la questione scolastica è una questione ben più complessa di quella che aveva precedentemente trattato. Dopo una ampia udienza nella quale l'Avvocatura ha rappresentato in buona sostanza tutte queste questioni che sono state qui rappresentate, la Corte Costituzionale si è riservata e verosimilmente entro il mese di aprile ci si attende una risposta che ospicabilmente speriamo possa essere di dimissione comunitaria, questo perché? Perché l'Avvocatura ha tentato di aprire un barco, nel senso che invocando il necessario dialogo orizzontale tra le giudizioni superiori ha rappresentato che sarebbe opportuno che anche la Corte Costituzionale si rimetta a principi che la Corte giustizia vorrà eventualmente individuare al fine di risolvere ormai la patologica questione del precariato, soprattutto con riferimento della scuola, che manco a farlo apposta solo nello Stato italiano non trova alcuna soluzione, anzi è all'origine di tutta una serie di problematiche di natura sociale, di natura lavorativa che allo Stato pare non interessino e pare che vogliono avere soluzione alcuna.